Nel corso di un vertice presieduto dal prefetto di Bari, Antonio Bellomo, si è discusso di come fronteggiare le infiltrazioni mafiose nella filiera dell'agroalimentare pugliese. Colpita soprattutto da estorsioni e usura associate alla scarsa propensione delle vittime. A denunciare continua intanto il lavoro dei gruppi interforze antimafia. Sentiamo. A favorire le infiltrazioni mafiose nella filiera agroalimentare è la propensione a non denunciare da parte delle vittime che così rendono complicate le indagini e aiutano i gruppi criminali. E' quanto emerso dalla riunione della conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza presieduto dal prefetto di Bari, Antonio Bellomo, e a cui hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, della giustizia e delle associazioni di categoria che hanno discusso dei potenziali rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico produttivo anche nella filiera agroalimentare. Tra i reati di cui gli agricoltori sono vittime ci sono le estorsioni e l'usura, fenomeno quest'ultimo che potrebbe subire un'impennata a causa della crisi che il settore sta vivendo nella fase di ripartenza da coronavirus. La mancanza di liquidità e lo stato di sofferenza dei bilanci delle imprese agricole potrebbe aiutare la criminalità organizzata che propone prestiti a tassi elevati. L'agroalimentare è diventato uno dei comparti più appetibili per la malavita, tanto che il volume d'affari delle agromafie cresce con un danno nei campi pari a 300 milioni di euro. E se i rappresentanti di categoria si sono impegnati a sensibilizzare gli associati a non piegarsi a richieste estorsive, continuerà il lavoro dei gruppi interforza antimafia delle prefetture che monitoreranno gli appalti pubblici e le trasformazioni societarie e promuoveranno il percorso di ascolto di tutte le categorie economiche per coglierne il disagio o i pericoli provenienti dal mondo criminale. Alla riunione ha partecipato anche il presidente della regione Puglia Michele Emiliano che ha ricordato lo stanziamento di risorse a sostegno dell'antimafia sociale e la promozione da parte della regione di percorsi di educazione alla cittadinanza attiva, di miglioramento del tessuto urbano, di promozione dell'inclusione sociale, di lotta alla povertà e di ogni forma di discriminazione.